Abbiamo fatto tante paste modellabili, ora impariamo ad usarle! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai Carta, forbice e mateta, coloriamola un po' noi Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te Questa è Arte per te Arte per te Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te Update paste modellabili, ci voleva, dobbiamo fermarci e aggiornarci sulle paste modellabili Ne abbiamo fatte veramente tantissime su Arte per te E molto molto spesso in posta mi arrivano dei messaggi in cui mi si chiede Ombretta, qual è la pasta migliore per fare questo? Ombretta, ho fatto la pasta di bicarbonato ma mi si crepa tutta Ombretta, ho fatto la pasta di mais mi è venuta molle Ombretta, ho fatto questo, ho fatto quello, cosa devo usare per fare? Eccomi, sono qui per rispondere a tutte le vostre domande su tutte le paste modellabili Adesso prendo il mio cellulare, prendo, come sono antica, lo chiamo cellulare, il mio iPhone Allora, prendo il mio cellulare, apro Arte per te sulla home page e clicco qui dove c'è la scrittina playlist Qui lo vedete, playlist, vi si apriranno una serie infinita di playlist, tutte qua, con tutti i titoli differenti Voi andate a cercare quella, paste modellabili, è questa con le mie manine su fondo rosso Cliccateci sopra, si apriranno tutti i video sulle paste modellabili E adesso andiamole a studiare una per una La pasta di sale, la pasta di sale è una ricetta carinissima Che vi ho dato tantissimo tempo fa, una delle mie prime ricette di paste modellabili Di sicura riuscita La differenza tra la riuscita o la non riuscita con le ricette nelle paste modellabili è sempre una E questa vale per tutta, la densità della colla Ci sono colle più dense, quindi meno ricche d'acqua E colle meno dense, più ricche d'acqua E questo fa variare, anche se è vinavil, ma basta cambiare le marche Che è una cosa differente, insomma E questo può variare la resa di liquidità o solidità della vostra pasta Quello, per questo, regolatevi ad occhio E aggiungete comunque, quando dovete diventare più solide Aggiungete un qualcosa che funga da inerte Quindi, per esempio, nella pasta di sale, io aggiungerei farina piuttosto che sale Perché il sale si scioglie, quindi in qualche modo partecipa della fluidità della pasta La pasta di sale si essicca all'aria Potete farla essiccare anche in forno Basta che la mettiate ad una temperatura massimo di 50 gradi E andando a sbirciare, aprendo quindi il forno Molto spesso, perché se invece biscotta, se cuoce Vi fa proprio l'elemento biscotto Può essere anche che lieviti un po' Quindi non va bene, diventa bruttissima Potete metterla al sole Non a un sole cosciente Quindi non a un sole del mezzogiorno alle due Ma un sole del mattino può stare Meglio invece all'aria, in un posto asciutto Magari anche un po' ventilato Teme moltissimo l'umidità Perché il sale assorbe l'umidità nell'aria E liquefa la pasta Quindi se abitate in un posto umido Scegliete un posto più asciutto Per far essiccare le vostre creazioni in pasta di sale È una pasta che non si adatta molto a cose di pregio Perché comunque rimane sempre un pochettino grossolana Un pochettino grezza E quindi sì, bamboline vanno bene Oggettini magari più per la prima infanzia O top di torte Magari questo sì Ma a bomboniere raffinate Quello no, non è la pasta adatta Scorriamo ancora la nostra playlist Se avete domande sulle paste modellabili Lasciatemele tutte sotto questo video E io vi risponderò Poi abbiamo fatto la pasta di riso La pasta di riso è una pasta bellissima Fatta con amido di riso Dove trovare l'amido di riso? È la domanda più frequente per questo video Allora l'amido di riso lo potete trovare in alcuni supermercati fornitissimi al reparto dolciumi Al reparto ingredienti per dolci Diciamo così Cake designer e via discorrendo Se no lo troverete sicuramente al reparto farmacie Sapete il reparto dove vendono i sali da bagno Tutto quel reparto lì? Benissimo Se andate nella parte per i bambini L'amido di riso è quello con cui si fa il bagno ai bimbi Lo vendono in sacchettoni Certe volte ha un aspetto granulare Altre volte invece ha un aspetto già polverizzato Bene Ma a voi non interessa che sia granulare o sia polverizzato Perché tanto se è granulare lo mettete nel frullatore con un poco poco d'acqua tiepida E lui si scioglie immediatamente diventando una pasta fluida Se invece è già in polvere il problema è bello e fatto Naturalmente questo tipo di amido costa molto di meno di quello che è quello per fare i dolci La pasta di riso è una pasta molto dura, molto bella Si essicca anche questa all'aria Potete essiccarla anche in forno stando molto attenti Sempre massimo a 40 gradi Controllandolo continuamente Ma io vi consiglio sempre all'aria in un posto fresco e asciutto Tutte le paste modellabili No, mai, specialmente le paste ricche in amido come la pasta di riso Mai un ritiro veloce Quindi mai vicino a termosifoni Stufe Al forno caldo Assolutamente no Perché l'amido tira a sé le particelle e spacca Cioè crea tensioni differenziate Specialmente se le formine non sono regolari Per le paste ad amido va detto anche questo L'asciugatura e il tipo di essiccazione varia da formina a formina Perché se ci sono delle formine tonde Naturalmente l'essiccazione avverrà prima sui bordi e poi al centro Quindi sarà un'essiccazione che va a stringere verso il centro Se invece ci sono delle rientranze, delle spurgenze Le zone più sottili, quelle con meno spessore Si asciugheranno prima di quelle con maggiore planimetria E quindi lì le tensioni saranno differenti E se non avrete l'accortezza di prendere la formina e girarla Ogni 8-10 ore E allora le tensioni potrebbero spaccare la vostra formina La pasta di riso è buona anche per i lavori a tutto tondo Tipo palline, bamboline Perché non spacca moltissimo L'amido sappiate già da sé Che avendo un tiraggio non facilmente controllabile Tutto ciò che non è chimico non è facilmente controllabile Potrebbe essere soggetto a spaccature Se ha dei ritiri troppo veloci dovuti a una temperatura alta Se c'è particolarmente caldo Se l'umido presente è esagerato Però a parte le condizioni straordinarie Nell'ordinarietà delle cose la pasta asciuga bene Ci vuole un bel po' di tempo 8 giorni anche per asciugarsi Un oggettino pieno Un gattino per esempio Perché naturalmente è un qualcosa di umido Molto pesante Me ne accorgerete Sono tutte paste con un peso molto importante E quindi dovete avere soprattutto pazienza E controllare l'iter di asciugatura Perché anche l'asciugatura delle paste modellabili È qualcosa che va sempre attenzionata Andiamo avanti La pasta di riso Adattissima per piccoli oggettini Per bombonierine È molto liscia Molto bianca Molto dura Molto bella Una delle mie paste preferite Molto delicata Elegante Quindi ottima per bomboniere Anche per i top Anche per quello che ho detto prima Per la pasta di mais Per la pasta di sale Quindi per i top delle torte Per oggettini per la prima infanzia Ma con queste potreste fare anche Dei piccoli oggettini Più eleganti Per cose un po' più importanti Così come potreste fare anche Dei piccoli elementi da bijou Poi la pasta di mais a freddo È una pasta bellissima Molto simile alla pasta di riso Un po' più facile nella riuscita Diciamo che riesce Molte molte più Cioè riesce quasi sempre Mentre la pasta di riso Ha una percentuale più alta Di crepatura Diciamo così Mentre invece la pasta di mais Andate lisce Proprio dovreste sbagliare Enormemente le quantità Della ricetta che vi ho dato O variare troppo La diluizione con l'acqua Perché non vi riesca La pasta di mais Sotto il video troverete Sfilze di commenti Di gente che è riuscita A farla Vi ha fatta bene E troverete anche qualcuno Invece che non è riuscito Questo io lo addebito Molto alle situazioni Climatiche differenti Ricordatevi che io sto in Sicilia Il clima è più asciutto Fino adesso insomma L'umidità è sempre Abbastanza controllata E anche questa Una pasta abbastanza adulta Quindi si possono fare Degli oggettini Che siano più ricercati E più carini Sia tutto tondo Che schiacciati Ora vi farò anche Questa differenza Perché c'è una pasta Che non è adatta Agli oggettini Tutto tondo La pasta di sabbia La pasta di sabbia È una pasta divertentissima La sabbia Non si può prendere Dalle spiagge Sono stata ampiamente Redarguida Per questo Ed è vero Io non lo sapevo Sinceramente Però È vero Quando feci il video Non lo sapevo Ora lo so E me ne guardo bene E la pasta di sabbia È una pasta Veramente Veramente bella I bambini si divertono Soprattutto perché Le creazioni Che possono fare a mare Le possono fare anche In casa Sul balcone E poi rimangono stabili A molista tuetta È una pasta Molto grezza E sabbiosa Naturalmente Anche se diventa impasta Ed ha un effetto Quasi scultorio Quindi può essere usata Sia per lavoretti Di bambini Che ne so Volete fare un castello Di sabbia perenne Con quello lo potete fare Ma anche per lavori Un po' più adulti Delle sculture Molto particolari A colatura di sabbia Oppure dei candelabri Rivestiti con pasta di sabbia Rutticolanti Sono molto molto particolari Indistruttibile Non ve la toglierete Più di casa Diventano delle bombe materiche Queste cose Che durano un'eternità Accortezza Va bene La sabbia dove si compra? La si compra in tutti i negozi Per che vendono materiale Per la costruzione Dove vendono quindi la calce Dove vendono gli inerti C'è anche la sabbia Potete scegliere anche La granometria differente E vengono cose bellissime Usatela e divertitevi E fate divertire soprattutto I vostri bambini Con questa sabbia Poi la pasta di borotalco La pasta di borotalco È una pasta molto fine Molto malleabile E molto molto particolare È una pasta profumata Buonissima È usata per i profumatori In pasta di borotalco Che sono un grande successo Di arte per te E risultano veramente Quasi a tutti È una pasta dolcissima Bellina Anche per fare Che ne so Le bombonierine da battesimo Che hanno quel così Tipico odore da neonato Fatto col borotalco Pensateci È una cosa carina E diversa Non tutti la conoscono È una pasta Tra l'altro Che accompagna Molto bene La profumazione E la deodorazione Dei nostri cassetti Quindi io quella La uso quasi esclusivamente Per fare appunto I profumatori E qualche bombonierina Da bebè Però Quello che si può fare Con la pasta di bicarbonato Di borotalco È la stessa cosa Che si può fare Con la pasta di mais O con la pasta di riso È leggermente Certe volte più collosa La lavorazione Lì basta aggiungere Un po' di borotalco E va tutto a posto La pasta di zucchero Non l'abbiamo inventata Su Arte per te È una pasta Che conosciamo tutti Si può fare Sia col glucosio Che col miele Qui su Arte per te La trovate col miele Mentre qua sulle schede Vi metto Quella di 2 cuore 1 k Col glucosio È una pasta dolce Edibile Quindi si può mangiare È una pasta Con cui i bambini Quindi potrebbero giocare Tranquillamente Molto zuccherina Naturalmente E con cui possono venire Fatti diversi soggetti Sia per i biscotti Che per le torte E il metodo di lavorazione È esattamente lo stesso Che le paste Modellabili In genere Il Dido Il mio mitico potò Che ha avuto Un grande successo Sono felicissima Che il potò Abbia avuto Il successo Il Dido Homemade È una pasta Che non nasce Per essere essiccata Molti di voi Mi chiedono Se il Dido Può essiccare all'aria Sì essicca all'aria Dopo un po' di tempo Ma non ha Un'essiccazione bella Per devividità Nel colore Insomma Il Dido È fatto Per mantenersi morbido Per far giocare I bambini Mi raccomando Ogni 3-4 mesi Variatelo Cioè Buttatelo E rifatelo Nuovamente È una pasta edibile Non è che la debbano mangiare Ma se li finisce in bocca Non succede Assolutamente nulla Però nello stesso tempo Cosa dirvi Non è una pasta Per fare dei lavoretti Se dovete fare dei lavoretti Scegliere piuttosto La pasta di mais O se siete ragazzini Una pasta di sale Più congeniale Dura di più anche E il risultato Sarà sicuramente migliore Quella conservatela A mo' di plastilina Per fare dei piccoli calchi Oppure per giocare Divertirvi A costruire la fattoria Con i vostri fratellini Più piccoli E poi Impastate tutto E si rifà E poi Una delle ultime paste Che abbiamo fatto insieme E che è piaciuta tantissimo E la pasta di bicarbonato Che è una pasta bellissima Anche un po' perlescente Fatta soprattutto di bicarbonato Amido di mais Edibile anche questa Quindi non contiene colla È una pasta Che anche i bimbi Possono manipolare Perché se la mettono in bocca Al limite Fanno un ruttino Ma più di quello no Non è per niente velenosa Ed è una pasta Che però è molto particolare È una pasta un po' Bastardella Perché è una pasta Che non avendo colla E avendo il potere incollante Ma è il potere incollante Risiedendo soltanto nell'amido È soggetta agli umori dell'amido E l'amido Ha umori diversi A seconda del clima diverso Io quest'anno Ho fatto tutti i lavoretti Per la scuola In pasta di bicarbonato E c'è una scuola Su cinque Solamente una Dove le ho dovuti fare Tre volte Perché ogni volta Si spaccavano tutti Perché in quella scuola C'era una forte escursione termica Tra l'orario di lezione E l'orario di chiusura Della scuola E quindi Queste formine Facevano questo lavoro E si sgretolavano tutte quante Diciamo subito Che la pasta di bicarbonato È una bellissima pasta Ma è una bellissima pasta Idonea Per soggetti schiacciati Quindi medaglioni Medaglioni per l'albero di Natale Medaglioni per Scrabbooking Quindi decorazioni Per i nostri lavori Scrabbooking Decorazioni per il cartonaggio Decorazioni per i quadretti Decorazioni per le cornici Decorazioni per quello che vi pare L'importante è che siano schiacciate Devono avere uno spessore massimo Di mezzo centimetro Massimo Perché sennò dopo il tiraggio Diventa davvero difficile E spacca Altra cosa fondamentale Della pasta di bicarbonato È che va la formina Una volta fatta Girata più e più volte Nel corso della sua essiccazione Quindi ogni otto ore Dovete prendere e rigirarla E lasciarla asciugare Non su fogli umidi Non su cartone Non su foglio di giornale Ma su un piano in formica Su un piano in silicone Qualcosa che comunque Non trattenga l'umido Ma lo faccia evaporare Perché se rimane umido De residuo sotto la formina Spacca È una pasta un pochettino Più da attenzionare Però è molto bella Cioè la riuscita Alla fine Quando ci prenderete la mano E riuscirà Tranquilli Perché io vi ripeto Ho fatto più di 700 lavoretti Avete visto Tutte le ghirlandine di Pasqua Sono fatte con soggettini In pasta di bicarbonato Quindi Ce ne erano tre Io ho più di 700 bambini Fate Voi Quante ne dovete fare E sono riuscite Sono riuscite tutte Quindi Ve le ho proprio Provate su strada In maniera Garantita E posso dirvi Che L'accortezza Sta nella preparazione Naturalmente Dovete preparare bene Anche la pasta Nel momento Della lavorazione a mano Dopo averla fatta Dopo averla impastata Dopo averla fatta a caldo Dovete lavorarla molto Nel Nel piano da lavoro Io ho usato anche la planetaria Per Buonanima Ho usato anche la planetaria Per Impastarla Quindi insomma Dovete Dovete molto bene Lavorarla Dopo di che Attenzionarla Durante l'asciugatura E vedrete Che il risultato Sarà bellissimo Ha un biancore E una perlescenza Che nessun'altra Pasta modellabile Ha Quindi lo sforzo È giustificato Dalla bellezza Del risultato finale La pasta di balsamo È una pasta modellabile Che si essicca All'aria Anche questa È una pasta profumata Anche questa Ed è una pasta divertimento Come la chiamo io È una pasta adatta Più ai bambini Ai ragazzini Non è una pasta adulta Nel senso Non ci farei Dei lavoretti Oddio Se volete farli Fateli È una pasta abbastanza Morbida Fluida Sottile Anche come texture Però Non è che vengano Delle cose Eccezionali Anche perché Molto spesso Si affloscia Cade su se stessa Quindi se non avete Un giusto grado Di durezza Della pasta È un po' difficile A lavorare E stessa cosa È anche per la pasta Di farina Anche la pasta di farina È una pasta Che è dedicata Più che altro Alla manipolazione Alla creazione Di oggettini Da parte dei ragazzini E dei bambini Non sono paste adulte Sono paste un pochettino Più giocose Per passare Dei pomeriggi divertiti Insieme ai nostri piccoli Anche questa Essicca all'aria Potrebbero Entrambe essiccare In forno Massimo Tutte le paste modellabili Massimo a 40 Barra 50 gradi Se 40 Col forno ventilato 50 col forno statico Mai 50 gradi Col forno ventilato Che sono sempre Un po' di più E quindi Andrebbero a cuocere Effettivamente Le paste Cosa dire Accortezza nell'asciugatura Per le paste modellabili Accortezza Nella manipolazione Preparatele molto bene E dopodiché Vedrete che vi risulteranno tutti Spero che questo video Abbia soddisfatto Parte delle vostre domande Quelle a cui non ho risposto Durante questo video Fatemele sotto al video E io vi risponderò Qui sotto Ho dovuto fare questo video Perché le richieste Sulle paste modellabili Sono infinite Continuamente La posta al 30% A domande sulle paste modellabili Quindi spero di avere Risolto Quelli che sono i vostri interrogativi Spero che questo video Vi abbia interessato Se è così Fatemi un bel pollice in su Con qualunque delle vostre Paste modellabili preferite Condividete questo video Sulle vostre pagine facebook E vi aspetto sempre Su tutti i miei social Facebook Instagram Il blog Vi lascio il link qua sotto E sempre 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 Su 2Q1K Il link invece lo trovate Qua sopra Bene Io vi aspetto Numerosissimi Come sempre Al prossimo video Da Ombretta ed Arte Per te è tutto Arrivederci Ciao Alla prossima